ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi abbiamo un video speciale per festeggiare i 700.000 iscritti direi che questo numero parla da solo davvero io non so più cosa dire come ringraziarvi come... non lo so però sono veramente contentissima e super carica per fare sempre i contenuti nuovi più belli più belli più belli più belli però oggi come speciale torno a un grande classico perchè me l'avete richiesto in tantissimissimissimissimissimissimissimi e quindi ho detto ok se proprio volete che ruota dei tingles sia è stata rinnovata per chi fosse nuovo questo format l'ho fatto per la prima volta nello speciale 300.000 iscritti l'ho rifatto forse su un'altra volta non mi ricordo comunque vedete è molto più bella ora ci sono due cose diverse ci sono dei trigger diversi penso sia solo uno uguale due uguali e soprattutto adesso è solo una ruota come vedete qui ci sono delle scritte non so se riuscirete a leggere però viene scritto canto visual trigger inaudible not talking soft spoken not sounds whispering layered e canto e visual trigger non mi ricordo solo detto penso di si invece i trigger sono il cactus l'ampollina la gibri in perle qui è sbagliato ho messo il gelatino ma per oggi faremo la una crema la crema per le mani il si chiamano le perline gel un pennello il cuore sfoliante un'agenda e basta quindi è appunto un po' cambiata però la trovo molto più bella vi faccio solo vedere com'era prima e adesso perdonate i miei brutti brutti disegni ma io non sono un'artista proprio molto poracci come disegni sì però penso si capisca e niente quindi il format di questo video è semplicemente che io ho girando la ruota vedrò quale trigger fare in questo video e come abbinarlo con le scritte quindi se vi piace questo video ricordatevi di mettere un bel mi piace per supportare il canale e se non siete ancora iscritti al canale ma guardate i miei video sapete che vi dovete iscrivere unitevi a questa splendida famiglia ok ci siamo pronti allora adesso partiremo con la freccia su questa parte penso che il centro non sia ben bilanciato quindi forse dovremmo fare delle frecce da qualche altra parte però per ora ok cipri in perle con not holding e sicuro è adesso одrò Alla prossima Grazie a tutti. 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 Pronti al secondo giro? Ah, ditemi nei commenti quale trigger sperate che esca o che combo. Ok, pronti al secondo giro? È immenso. Riproviamo. Decisamente ampollina con... con... Whispering. Per chi non conoscesse l'ampollina... è questo oggettino qui... che vi ho fatto vedere solo in un video, penso. e... la sua particolarità è quella di fare questo suono. trovo questo trigger affascinante. sia da un punto di vista uditivo... sia da un punto di vista visivo. ho visto per la prima volta questo trigger... che è una ragazza coreana... 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 e quando ho visto questa ampollina... dei cinesi... non ho potuto resistere... bene... che è una ragazza... Grazie a tutti. E mi affascina tantissimo appunto questo suono. Vi faccio giusto vedere. Ok. Passiamo al terzo tentivo, terza girata, non saprei come dire. Ne faremo quattro in tutto. Cactus con... No, ancora Whispering, cambiamo. Inaudible. Interessante. Per chi non lo sapesse ancora, questi cactus, i cactus fanno un suono similissimo all'acqua. Molto affascinante. E, ripeto per la millesima volta, non pungono, non fanno male, non mi faccio male. Un po' qui in fondo sì, ma qui assolutamente no. Solo una cosa, per chi ama l'Inaudible, venerdì. È uscito un video di Inaudible, quindi mi ti ho ancora visto corretta dopo questo video, ovviamente. E, ripeto per chi non lo sapete. 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 fissai super benessi andateBug diana e Gesù iniziamo edica 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 questo è il note 7 ecco ecco il nostro corso è un po' di calda il nostro corso è un po' di calda e il nostro corso è molto bello c'è un po' di calda un pochino vorrei andare tra l'altro latino però non posso dire io non ne ho dire un pochino un pochino si un pochino un pochino tu non saigi un pochino un pochino un pochino in pratica i sono necessario per l'acqua questa è sua nella settimana questa è una bella è Quelli sono fattigate fattigate si sono fattigate adesso prò L'ultimo trigger Ancora che palla Questa, apposso il gelatino, è la crema per le mani Layered Figo Per chi non sapesse cosa vuol dire layered Layered, non lo dico neanche bene Layered Layer vuol dire strato, quindi stratificare i suoni Non so bene come lo farò È una cosa che farò in editing Quindi sarà una sorpresa anche per me fondamentalmente Ho scelto la cremani in particolare perché Ho fatto un Diciamo sottaggio, una domanda su quali trigger avreste voluto vedere sulla ruota dei tingles E Giulia del canale GiuliaSSMR ha chiesto la crema per le mani Ho detto Ma sì, ma non la faccio mai Ho detto E ecco E' un po' di tutti i nostri amici. ok quindi penso proprio sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi una buona notte buona notte sognitor buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte il più possibile, il più possibile i direct su Instagram, io sono, non mi lavoro in italiano, ma sono tipo, I'm blessed, sono veramente onorata, e è pazzesco, quindi non so davvero come ringraziarvi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, e vi mando un bacione, cali spero